... ... ... ... ... Matti! Chi c'era? ... ... Io non so più che devo fare! Da quando io e mio marito ci siamo separati non lo controllo più! Vediamo che stai fare! Vai! Forza! Recuperate tutto in classe! Guarda che non è stato facile nemmeno per me! Fidati! Nella vita bisogna lottare! Sempre! Ci vorranno un paio d'ore! Ma se mi aiuti ci metto meno! Anna potresti fermarti un momento? Ciao! Eri tu che cantavi! Grazie! Ciao! 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 Ciao!